Dopo il via libera dell'Unione Europea per il finanziamento della Siracusa Gela ci sarà la gara d'appalto entro l'estate, ma bisogna pensare subito all'otto Modica Scicli. La notizia dell'avvenuto finanziamento di 197 milioni di euro per i lotti 6-7-8 dell'autostrada Siracusa Gela, che congiungeranno Rosolini a Modica, ha dato fiducia e creato un certo entusiasmo nell'ambito politico e sindacale. L'appalto dei lavori, infatti al di là dell'ulteriore alluncamento autostradale nella Sicilia sudorientale, significherà anche occupazione. Filea CGL, Firca CISL e Feneal UIL avevano organizzato lo scorso 18 febbraio un'inaugurazione virtuale del tratto autostradale in questione e non possono ora che plaudire all'avvenuto via libera. Sottolineano i sindacati in un documento congiunto, l'appalto sarà una grande occasione per il comparto edilizio, estremato oggi dalla crisi di commesse e da una disoccupazione non più sopportabile che sta mettendo in gravissima difficoltà tantissime famiglie. Per un rilancio dell'occupazione per migliaia di operatori del settore, tra diretto e indotto, per almeno 4 anni. E questo è infatti il ritorno in termini occupazionali della costruzione dei tre lotti. In cantiere c'è anche il lotto 9 che dovrà collegare Modica con Scicli. E' l'idea di Nino Minardo che ha già incontrato i funzionari dell'ANAS che dovranno chiudere al più presto i progetti esecutivi. Il parlamentare Nino Minardo conferma che l'ANAS è in grado di consegnare i progetti dei tre lotti in tempi brevi per poi passarli al Consorzio Autostrade Siciliano, cui spetterà il compito di pubblicare il bando di gara. Secondo Nino Minardo, nel frattempo ci si deve impegnare a reperire la parte mancante del finanziamento necessario per la realizzazione del lotto 9 fino a Scicli, che potrebbe ridursi grazie alle risorse che si otterranno dai ribassi d'asta e che si sommeranno ai 70 milioni già stanziati e disponibili. Da parte sua, il deputato regionale Roberto Ammatuna conferma la roadmap che porterà al bando di gara.